Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video quest'oggi andrò a parlare di Foss Fishing ma mi raccomando ragazzi prima di iniziare col video lasciate like, condividete i video, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti dunque mi raccomando venerdì prossimo uscirà la seconda parte di questo video lunedì è uscito un video che è piaciuto molto da molti ho apprezzato perché ha colmato alcune lagune però se ne sono andato a creare altre dunque nel video di oggi andrò a spiegare un po' quei problemi che vi sono posti che ho chiesto su Instagram attraverso le storie quindi andatemi a seguire su Instagram e oggi quindi aiutandomi con i video vi andrò a far capire un po' meglio questa tecnica che è il Foss Fishing dunque direi di non perdere altro tempo e via col video come vedete mi sono state fatte un po' di domande allora partiamo dal principio dall'arrivo sullo spot allora intanto possiamo più o meno denominare due tipi di spot alla grande ovvero spot dove ci si può avvicinare tranquillamente alla sponda le carpe senza problemi tipo così e quindi sono spot che si può anche usare un po' di più si può fare anche qualche errore e spot che spesso magari hanno anche acqua limpida quindi il pesce ci vede bene e quindi bisogna tenere una certa distanza di sicurezza magari ci possono anche essere spot con acqua pulita nei quali possiamo andare praticamente sopra la testa del pesce e fa finta di niente però la maggior parte degli spot con acqua pulita il pesce è molto più sospettoso e tende soprattutto a guardarsi bene intorno e se facciamo magari un movimento più azzardato troppo veloce o se ci avviciniamo troppo ma non come vibrazioni che sentono ma proprio come immagine perché ogni tanto le vedi guardare in alto che ti guardano e dopo scappano questa divisione come facciamo a capirla beh basta provare comunque in entrambi i casi sia dove sono meno sospettose ma anche dove sono più sospettose non è che andate là a pestare pesantemente per terra comunque camminate abbastanza leggeri non fate comunque movimenti bruschi perché comunque non è che il pesce sia stupido una volta capita la differenza se è uno spot dove si può comunque avvicinarsi molto alla riva praticamente andare in acqua e invece è uno spot dove si deve stare molto distanti perché il pesce ci sente il pesce ci vede e sono molto sospettosi quindi magari un lancio sbagliato ma tra poco andiamo a parlare anche di quelli possiamo anche capire il nostro approccio camminare molto ma molto lentamente nella parte più sospettosa veramente fare movimenti minimi non agitare troppo la cane in aria anzi tenerla molto bassa perché loro guardano in alto magari c'è un predatore può essere un airone qualcosa un gabbiano un cormorano quindi magari vedono questo movimento della canna e spaventano ovviamente non posso entrare in un cervello di una carpa e capire cosa pensa quando vede una canna così magari pensa oh guarda un pescatore ah tu non mi prendi chi lo sa però quello che sicuramente aiuta pescare in acqua pulita può far capire veramente veramente tanto soprattutto possiamo vedere la carpa come reagisce ormai il comportamento della carpa lo diciamo capito perché quando fa un certo movimento quando si comporta in una certa maniera so cosa vuol dire quando la carpa ti rifiuta una o due volte per esempio ormai quella carpa la puoi lasciare stare perché non toccherà più nessuna nesca se siamo in spot sospettosi invece magari in spot meno sospettosi puoi anche magari provare a cambiare esca e ci può mangiare dunque come secondo argomento andiamo a parlare di tecniche di lancio e di varie traiettorie dell'esca rispetto alla carpa sulla prima opzione bene o male molti hanno le stesse idee ma nel secondo caso c'è più un fattore personale spesso in base alla posizione dove ci troviamo ci sono varie traiettorie che si possono fare possiamo dire che ci sono varie interpretazioni delle traiettorie da fare per far trovare l'esca alla carpa io per esempio ho delle traiettorie diverse da quelle che usa il mio amico Uberto Massaro questa cosa è molto personale in effetti perché io derivo dalla pesca spinning al bus quindi già molti molti anni fa io facevo pesca a vista sui bus quindi mi sono abituato a prendere certe traiettorie in base al loro comportamento la stessa cosa vale con le carpe come traiettorie dunque io vado a delinearne due diciamo abbiamo la carpa davanti a noi vado a tirargli dall'altra parte del muso spesso e volentieri a distanza più distante possibile meglio e soprattutto rallentando con la canna e con il mulinello l'esca come si fa nel bus fishing per attotirare al massimo la caduta dell'esca in acqua e evitare di fare il tonfo quando sapete fare questa cosa diciamo che avete risolto molti problemi perché spesso la carpa si spaventa perché l'esca gli cade vicino perché sente il tonfo e quindi scappa altra traiettoria abbiamo la carpa più avanti rispetto a noi dunque gli faccio passare l'esca lanciandoli oltre la bocca sempre tenendo la tecnica della distanza e portandole verso la bocca questa molte volte ho visto molti riscontri che la carpa partiva alla rincorsa dell'esca per andarla a prendere presa avevo letto sotto il video precedente un commento che diceva ah quindi per prendere le carpe basta mettere l'esca davanti e sperare che mangi in più in più filmati si vede come la carpa una volta vista l'esca in sé ha la ricerca subito di prendere l'esca perché soprattutto utilizzando esche che imitano molti insetti eccetera eccetera questo succede quando difficilmente riusciamo a prendere una carpa lanciandogli l'esca in distanza e tenendola abbastanza distante e quando sta mangiando perché? perché la carpa è un pesce che ha la bocca verso il basso cosa che sembrerà stupida però è così avendo la bocca verso il basso ci fa capire che si alimenta sul fondo dunque la carpa quando mangia guarda sotto quindi cosa succede? la carpa sta puntando la testa verso il fondo con la bocca smuove la terra alla ricerca di insetti piccole chiocciole quello che c'è sul fondo quindi c'ha lo sguardo verso il basso se noi gli lanciamo l'esca davanti anche a 20 centimetri lei non può vedere l'esca perché ha lo sguardo verso il basso se noi la portiamo a tanti centimetri così tipo 10-5 lei riesce a vedere la carpa quindi non è questione di metterglielo davanti alla bocca sperando che aspiri lei vede l'esca si porta avanti e prende sull'esca perché se lei è inclinata così soprattutto muove fango la visibilità è poca soprattutto se ci troviamo in acqua sporca la visibilità è ancora meno cioè provate a prendere il telefono un action cam che resista all'acqua e metterlo mettere il telefono nella cover per l'acqua metterlo sull'acqua e vedere quanta visibilità c'è capite che un pesce fa fatica a vedere una cosa così in mezzo al fango che tira anche su invece quando siamo su acqua pulita che magari il pesce è anche in crociera quindi non si sta alimentando quindi non guarda verso il basso se noi magari lanciamo l'esca a un metro dalla sua bocca e lo facciamo saltellare davanti su una linea orizzontale lei si porta avanti lo vede e va a mangiare però mi raccomando movimenti sempre lenti ritornando ai lanci se ci troviamo in spot dove riusciamo ad andare giù sulla riva e magari anche arrivare con la canna vicino alla bocca del pesce magari se non è in verticale anche un pochino più avanti possiamo utilizzare la tecnica di prendere come ho fatto vedere il filo con la mano e il mulinello andare ad appoggiare piano ma veramente piano vicino alla bocca anche sopra ancora se non siete capaci a farlo molto silenziosamente potete portarlo anche un pochino più avanti e portaglielo vicino alla bocca come abbiamo fatto vedere nel video e si vede la carpa che prende cambia inclinazione si muove perché ha trovato il cibo è in frenesia vuole tirare fuori il cibo soprattutto si prende se si va a imitare delle piccole larde piccoli insetti top del top quindi si vede che ha trovato l'esca diciamo è felice e là arriva la mangiata io ormai come ho detto nel video non guardo la mangiata non sento la mangiata non ho bisogno raramente mi serve tenere il filo in tiro perché quando vedo il comportamento di una carpa che fa certi movimenti io ferro cioè non sto neanche là a guardare capite?